Qui vi presentiamo le 5 migliori boiler. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Ariston 3.100.313 Scaldabagno elettrico 10 litri. L'Ariston è un'azienda leader in questo campo e inoltre non è un caso che la caldaia più economica e più valida sia solo uno dei suoi articoli. Ti fornisce la massima qualità più efficace a cui sei utilizzato in un gadget portatile e molto discreto. I prodotti sono stati accuratamente scelti per assicurarsi anni di robustezza e l'eccellente efficienza lo distingue in modo significativo dai disegni posizionati nella sua stessa gamma di velocità. Il mini serbatoio ti garantisce la massima comodità possibile, indipendentemente dalle sue piccole dimensioni e la capacità di riscaldare 10 litri di acqua in un paio di minuti. Il riscaldatore di rama è solo uno dei più utili di tutti, lo sarà assolutamente valore. Consigliamo questo prodotto a coloro che vivono da soli o a tutti coloro che non intendono investire una tonnellata di denaro per ottenere una caldaia a riscaldamento centrale pratica. Passando al numero 4 Scaldabagno boiler elettrico Quando si tratta di abilità non c'è nessuno per nessuno, Aquamarine vi lascerà senza parole. Il suo contenitore può contenere 100 litri di acqua tiepida, in modo da non esci mai l'acqua. La temperatura ottimale che può raggiungere è di 75 gradi. Concedetevi lunghe docce rilassanti e anche bagni, in particolare durante le stagioni invernali. Quando hai effettivamente valutato l'efficacia di questo prodotto, non tornerai mai più. La temperatura dell'acqua rimane stabile per circa due giorni dopo lo spento del dispositivo, che è meglio per le celebrazioni di emergenza. Il contenitore interno è spesso 10 mm e rivestito con 0,5 mm di materiale smaltato per garantire una resistenza ottimale contro l'usura e la corrosione. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3 Pluker 3.201.268 Scaldacqua Elettrico L'acqua calda è un requisito in ogni residenza specificamente in inverno, quando il livello di temperatura scende molto così come è impossibile fare la doccia o pulire il confronto con acqua fredda. Per risolvere questo problema, è sufficiente scegliere Pluker 3.201.268, un'eccezionale caldaia a riscaldamento centrale. Ha uno stile minimalista senza troppi decori, ti fornirà ciò di cui hai bisogno in qualsiasi momento. Ci sono diversi punti di vista favorevoli che sicuramente scoprirete per quanto riguarda questo dispositivo. Se ci sono diverse persone che risiedono in casa, è necessario un dispositivo che può coprire l'alta necessità di acqua calda e anche rapidamente. Tasso è tra i principali vantaggi di questa versione, ma non è tutto. La capacità di 80 litri e anche i suoi prodotti da costruzione resistenti e anticorrosivi ci permettono di classificarlo come la migliore caldaia a riscaldamento domestico rapido oggi. Almostat è top of our list at number 2. Teca, termoelettrica E50. Come indica il nome, questa caldaia a riscaldamento centrale Teca ha una capacità di 50 litri, ampia per prendere tutte le docce che si desidera. La sua struttura in acciaio inox garantisce un'elevata resistenza e anche un'eccezionale robustezza, quindi per quanto riguarda ti fanno trascurare finalmente i problemi di corrosione e usura. Un altro vantaggio di E50 è la sua piccola dimensione, ideale per metterlo ovunque tu voglia nella tua casa, sia nella doccia che in cantina. L'installazione è molto facile, non c'è bisogno di chiamare un tecnico di assistenza specializzato e spendere ancora più denaro. Non si può perdere un regolatore del livello di temperatura che consente di adattare alle vostre esigenze. È sicuramente una delle caldaie più efficaci sul mercato. E infine il numero 1 della nostra lista. Ariston Scaldabagno elettrico Lidos Plus. Goditi docce molto più lunghe e piacevoli con un livello di temperatura dell'acqua perfetto. Questo dispositivo a marchio Ariston ha una capacità incredibile di 80 litri, ideale per lunghi momenti di relax dopo una faticosa giornata di lavoro. Grazie alle sue fenomenali prestazioni energetiche, non devi preoccuparti che la tua spesa mensile per l'energia elettrica sia troppo alta. Il display interattivo situato sulla parte anteriore della caldaia a riscaldamento centrale vi permetterà certamente di impostare il livello di temperatura a proprio piacimento, nonché di indicare la quantità di acqua calda lasciata all'interno. Rendere la vostra doccia un momento di relax così come la felicità acquisendo questo strumento, dal nostro punto di vista non c'è molto meglio. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più, iscriviti al nostro canale.